I love Vale si riparte di corsa, si riparte di corsa? Speriamo, è stata una cosa un po' insolita Alla fine non siete mai stati fermi, quantomeno banchetti, quantomeno attività Cerchiamo di darci da fare perché quello che facciamo lo facciamo con una cosa veramente veramente importante E col cuore Col cuore quello senz'altro Allora siete pronti per la ripartanza di questa bellissima manifestazione? Certo siamo prontissimi ma soprattutto con lo spirito Perché insomma l'associazione Love Vale come ben conoscete Lavora da tempo sul territorio e riesce sempre a raggiungere obiettivi come puoi aver visto stasera Una serata, una corsa che diciamo è fuori dai circuiti classici Sta radunando diverse persone tutte con lo stesso obiettivo Quello di fare solidarietà e stare insieme Come funziona? Correrai anche te? No io sono addetto al vetto vagliamento Come no? Cioè no io Pensavo tu facessi sei chilometri Io sinceramente sono un po' più pratico di bicicletta Però sinceramente do una mano qui all'organizzazione Nell'allestire per insomma la cena, il ristoro Dopo è il passi Per cui anzi credo che anche con l'ottima pop-up pomodoro e la salsa offerta dall'associazione Romito Per cui questa cosa lega veramente tutte le persone diciamo che sono propense a dare il suo contributo per la solidarietà E come vedi Romito, il mattone, I love e vale Insomma tutto insieme per un unico obiettivo La solidarietà e lo stare insieme Infatti è bellissimo davvero complimenti Ecco e quindi però io dovevo correre Io sono dei fanni di... Del registra e documentarista Sì bravo Come vedi potevamo correre ma abbiamo scelto una soluzione diversa